In questa lezione faremo un po' di refactoring del codice. Fare refactoring vuol dire riorganizzare, migliorare il codice scritto. Ed è un'operazione sempre necessaria perché al crescere dei progetti difficilmente scriviamo codice non migliorabile o esente da errori. Nel nostro caso di errori ne abbiamo abbastanza, quindi andiamo a sistemarli. A livello di controlli la prima cosa che facciamo è controllare se la username fornita in fase di registrazione non sia già presente all'interno del database. Se è già presente ovviamente non possiamo registrare il nuovo utente. Dato che facciamo un'operazione sul database e sappiamo che in caso di errori viene sollevata un'eccezione di tipo pdo exception andiamo ad inserire questo blocco, questo pezzo di codice all'interno di un blocco trycatch. Se noi facessimo un semplice echo qui all'interno che cosa succederebbe? Supponiamo che ho scritto male la tabella, quindi invece di utenti ho scritto utenti2. verrebbe generata un'eccezione di tipo pdo exception, qui all'interno verrebbe catturata. E dato che viene catturata il codice prosegue senza problemi. Ma noi non vogliamo che il codice prosegua ma vogliamo uscire, quindi facciamo un ritardo. Indichiamo un messaggio di errore generico. Perché il codice continuerebbe? Dato che abbiamo inserito questa porzione all'interno di un blocco trycatch, PHP dice Ok, tu sai bene che questo pezzo di codice può generare un'eccezione, però l'eccezione l'hai correttamente catturata. Quindi sei in controllo del tuo codice, posso tranquillamente continuare. Bene, se non ci sono errori sul database, quindi abbiamo scritto tutto bene, il codice continua e come possiamo notare iniziamo i vari controlli sulla correttezza dei dati. Quindi controlliamo ad esempio che la password sia valida, che password e conferma password corrispondano e così via. Notiamo però che abbiamo sollevato delle eccezioni di tipo exception, ma non le abbiamo catturate. Apriamo la pagina registrati.php. Le eccezioni che sono generate in questo punto del codice vengono catturate qui all'interno, quindi in registrati.php. Però questo è un po' inconsistente perché qui abbiamo catturato l'eccezione direttamente all'interno di registra nuovo utente, mentre qui solleviamo un'eccezione che viene catturata in un altro file. Noi invece andiamo ad inserire tutti i controlli all'interno di un blocco try catch. Dato che solleviamo eccezioni di tipo exception, ovviamente catturiamo un'eccezione di tipo exception. Anche qui non facciamo un echo ma un return. Perché facciamo return $e.getmessage Supponiamo che l'utente abbia fornito una password non valida, quindi arriviamo a questo punto del codice. Viene sollevata un'eccezione e abbiamo questo messaggio di errore. Proprio questo messaggio sarà contenuto in $e.getmessage Continuiamo con il codice. Se superiamo questo blocco try catch vuol dire che non ci sono eccezioni, non ci sono errori. Quindi andiamo ad inserire l'utente nel database. Qua invece di restituire true andiamo a restituire un messaggio di successo. Bene, adesso però dobbiamo fare una modifica in registrati.php Dato che noi abbiamo gestito tutte le eccezioni qui all'interno di registra nuovo utente non c'è motivo di catturare l'eccezione in questo punto quindi possiamo togliere senza problemi il blocco try catch. Noi sappiamo che il registra nuovo utente ritorna un messaggio di successo o di errore quindi facciamo $e.getmessage Andiamo ad inizializzare $e.getmessage E invece di fare un eco direttamente qui magari lo facciamo in questo punto del codice. Perfetto, vediamo se tutto funziona. Inviamo la registrazione senza compilare alcun campo Vediamo che abbiamo il messaggio username non valida Proviamo a mettere una username valida Inviamo Abbiamo un messaggio d'errore password non valida Bene, il codice quindi già è migliore Ovviamente registra nuovo utente ha ancora dei problemi Uno dei problemi è che c'è troppo codice Dato che sono implementate diverse operazioni Quello che possiamo fare è spostare queste operazioni all'interno di funzioni apposite Ad esempio abbiamo questa query sul database Possiamo spostare questa operazione all'interno di una funzione apposita Public function Username Scriviamo in inglese Togliamo questo row count qui E lo mettiamo all'interno della funzione Quindi se è maggiore di zero Non solleviamo un'eccezione Ma facciamo un ritardo True Altrimenti restituiamo false Quindi se l'username esiste già Quindi ritorna true la funzione Facciamo un return L'username indicata è già presente Facciamo la stessa cosa per quanto riguarda i controlli Definiamo la funzione Check moduli E semplicemente spostiamo Abbiamo questo blocco di codice Qui all'interno Ovviamente abbiamo necessità dei parametri Anche se non è la soluzione migliore Però li passiamo uno ad uno Nel caso in cui uno dei controlli non vada a buon fine Viene sollevata un'eccezione in questo punto del codice E l'eccezione viene catturata in questo punto Catturiamo l'eccezione e restituiamo il messaggio di errore Catturiamo l'eccezione